Sì, siamo venute da una sconfitta di ieri, dove comunque penso che l'ansia abbia giocato tutti scherzi a tutte e infatti non siamo entrate in campo con della testa e concentrate. Oggi però sarà che dopo la prima partita ci siamo un po' preparate, eravamo entrate con la voglia di fare, di dimostrare quello che siamo e quello che sappiamo fare, con tanta grinta e voglia di vincere e penso si sia anche visto dal risultato, è stata comunque una bella partita, siamo sempre state sopra però il teramo ci ha fatto sudare fino alla fine, nonostante questo siamo felici del risultato, ora in testa bassa pensiamo addosso buono, sperando di rientrare, rientreremo sicuramente con la stessa grinta e la voglia di vincere abbiamo avuto oggi. Oggi abbiamo sperato un po' la difesa, molti tiri anche, speriamo domani comunque ci metteremo il cuore per provare a passare contro il brune. Niente, speriamo bene, lavoreremo sulla difesa perché abbiamo smatti i tiri soprattutto e ce la metteremo a trinta.